Di propone al Presidente... Tradizionale cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. La cerimonia si è svolta nei locali della Prefettura. Prefetto Tagliente, grande emozione sui volti delle persone che l'hanno ricevuta. Sì, ho apprezzato molto questa emozione perché ho capito quanto hanno percepito l'importanza di essere insegniti di una beneverenza al merito della Repubblica e questi insegniti adesso hanno il dovere di mantenere con l'esempio delle azioni quel rispetto verso le istituzioni, verso la Repubblica. È stato un momento importante, è stato un momento solenne e ho potuto registrare anche l'emozione da parte dei familiari che stavano incontro. Siamo tutti orgogliosi di questo momento ma soprattutto di avere tanti benemeriti della Repubblica. Chi la può ricevere? Sono persone che si sono distinte per tutte quelle attività che hanno caratterizzato il loro percorso professionale. La loro attività è che oggi vengono riconosciuti, meritevoli di essere insegniti di questa onoreficenza. Grazie. Grazie.